Principali patologie infettive dell'occhio. Abbiamo detto che parleremo della toxoplasmosi oculare, della tubercolosi oculare e infine della sifilide oculare. Cominciamo con la toxoplasmosi che è una patologia causata dal protozo toxoplasma gondii che è un parassita intracellulare obbligato. Si trova, meglio, colpisce circa un terzo della popolazione mondiale, quindi tantissime persone e la modalità di trasmissione rende ragione del come mai tante persone siano colpite. Di fatto è facile contrarre il toxoplasma perché basta ingerire carne infetta, quindi di agnello, maiale o manzo, ingestione accidentale di ocisti, per esempio inalando feci di gatto, quindi dalla lettiera o anche dal terreno, oppure frutta e verdura non lavate bene, trasmissione materno-fetale per via trasplacentare, che però nel complesso è la più rara. Quindi o l'ingestione di carne, agnello, manzo e maiale, o ingestione appunto di frutta e verdura non lavate o inoculazione di ocisti dalle feci del gatto, quindi dalla lettiera, oppure la trasmissione materno-fetale. Abbiamo detto la trasfusione è un'altra forma di trasmissione, però di fatto ormai è rara, cioè dal donatore sieropositivo è rara perché tutto è controllato. Si può avere inoltre la riattivazione di una precedente infezione in pazienti che sono immunosoppressi o persone altrimenti sane, che hanno però un'infezione congenita della retina, quindi riattivazione nei pazienti immunosoppressi o altrimenti sani, però con infezione della retina. Il gatto è l'animale serbatoio, se vogliamo. Comunque il ciclo vitale si compone di due fasi del toxoplasma. La prima fase è nell'ospite definitivo, leggi appunto in generale un felino, di solito il gatto, e qui va incontro a riproduzione sessuale, cioè dalle ocisti fuoriescono gli sporozoiti che infettano le cellule epiteliali dell'intestino tenue e qui riproducendosi vengono espulse poi con le feci allo sfaldamento della mucosa intestinale del gatto. Quindi formano di fatto delle due sporocisti, uno sporozoite forma due sporocisti che contengono a loro volta quattro sporozoidi, quindi due a testa, che sono gli elementi infettanti. Quindi sporozoita entra nella cellula epiteliale, forma sporocisti che sono matriosche, se vogliamo, di sporzoiti, che sono la forma infettante. La seconda fase si ha proprio nell'ospite intermedio che si può infettare, ne abbiamo detto, con le feci, con la carne poco cotta, eccetera. Il parassita passa la barriera intestinale, viene veicolato dai macrofagi e invade per via ematogena cellule di svariati tessuti nella quale vengono a formarsi i cosiddetti vacuoli parassitofori. All'interno di questi vacuoli il toxoplasma gondii si propaga finché la cellula infetta non scoppia, quindi questa forma è il cosiddetto tachizoite, dopodiché l'ospite acquisisce una certa immunità, quindi la replicazione rallenta, quindi c'è una forma riproduttiva lenta che viene definita bradizoite e avremo in questa fase appunto proprio cisti a livello retinico, cardiaco e cerebrale, quindi cisti retiniche, oculari, cardiache e cerebrali. Quindi abbiamo fasi dell'infezione abbastanza varie, nel terzo periodo nella fattispecie abbiamo una reazione anticorpale massiva con incistamento del parassita in varie sedi, da qui si potrà avere poi in un secondo tempo la reagutizzazione, quindi quando il sistema immunitario è ben attivo si può assistere all'incistamento, ma poi quando le difese immunitarie si abbasseranno ecco che riscappa fuori il toxoplasma. Quali sono le manifestazioni oculare del toxoplasma? Allora la maggior parte delle manifestazioni deriva da un'infezione congenita in seguito riattivatasi, quindi spesso nel secondo e terzo decennio, quindi infezione congenita che viene fuori a 20-30 anni. L'esordio improvviso è bilaterale nella forma congenita e monolaterale nella forma acquisita. Si manifesta con miodesopsie, perdita dell'acuità visiva e fotofobia, quindi abbastanza comuni come sintomi. Abbiamo detto esordio improvviso bilaterale nella congenita, monolaterale nella forma acquisita, abbiamo detto con miodesopsie, perdita dell'acuità visiva, fotofobia. La principale manifestazione di infezione è la retinocoroidite, cioè una retinite focale necrotizzante con appunto necrosi della coroide. Nei soggetti immunocompetenti questa retinite cicatrizza nel giro di 6-8 settimane e quindi si evolve poi in una cicatrice atrofica. Quindi abbiamo detto principale manifestazione è questa retinocoroidite con necrosi della coroide e della retina. Oltre alle miodesopsie, la perdita di acuità visiva, la fotofobia e quindi la retinocoroidite abbiamo uveite anteriore, molto frequente, la vitreite grave dove il fondo oculare assume l'aspetto di un faro nella nebbia, un focolaio infiammatorio solitario adiacente magari a una cicatrice di vecchia data, quindi come lesioni a fiocchi, si manifesta come lesioni a fiocchi cotonosi, gialli, rilevati, indistinti e poi abbiamo a focolai infiammatori multipli che però è di raro riscontro. Le lesioni oculari abbiamo detto possono essere cicatriziali, recidivanti. Oltre alla retinocoroidite abbiamo anche la neuroretinite che è infine l'infiammazione della retina con essudati duri disposti a raggiare. Quindi le rileggiamo. I sintomi saranno miodesopsie, perdita dell'acuità visiva e fotofobia. I reperti saranno retinocoroidite, uveite anteriore, molto frequente, vitreite grave ad aspetto nebbioso, poi il focolaio infiammatorio solitario oppure focolaio infiammatorio multiplo, la retinite, neuroretinite e lesioni oculari. Le complicanze sono coinvolgimento della macula e coinvolgimento della testa del nervo ottico. Nella toxoplasmosi congenita le lesioni oculari si hanno nell'80-85% dei casi, a differenza della toxoplasmosi acquisita dove le lesioni oculari si hanno nel 2% dei casi, quindi chi se la becca dalla nascita è molto più a rischio. Nell'85% dei casi durante la gravidanza l'infezione va avanti in maniera subclinica, quindi alla nascita il bambino appare completamente sano. Negli immunodepressi assistiamo invece a lesioni atipiche, tra cui soprattutto una retinite che è veramente vasta perché il sistema immunitario non riesce a contenerla e addirittura ci sono aree confluenti di retinite. Le recidive sono maggiori durante il primo anno, durante l'etanziana e durante la fase AIDS aumenta la frequenza e la severità dell'interessamento oculare. Alla base delle recidive cosa ci sono? Allora, rilascio di parassiti da cisti resistenti, reinfezione dell'ospite e il fatto che il toxoplasma non viene mai del tutto e radicato, quindi riattivazione o reinfezione. La diagnosi come viene fatta? Allora, innanzitutto abbiamo anticorpi specifici tipo IgM che compaiono durante le prime due settimane e che hanno un picco massimo entro le 4-8 settimane. Le IgG invece compaiono più lentamente, in massimo 1-2 mesi e rimangono elevati e stabili per mesi e anche per anni, quindi IgG stabili per mesi-anni e si formano nel giro di due mesi, gli altri in giro di 4-8 settimane, picco massimo l'IgM. Poi la diagnosi si fa anche valutando queste alterazioni del campo visivo e questa riduzione della acuità visiva. La terapia è una terapia specifica indicata per il neonato oppure per la donna in gravidanza e per gli immunocompromessi, quindi neonato, donna incinta, immunocompromessi. Il trattamento è a base appunto di antibiotici e corticosteroidi che viene fatto quando ci sono le lesioni che compromettono la visione, quindi antibiotici e corticosteroidi in presenza di lesioni che compromettono la visione. Per quanto riguarda gli antibiotici utilizziamo il Bactrim che è un'associazione tra sulfometosazolo e trimetoprim e serve ad evitare le recidive durante la fase inattiva. Con questo abbiamo concluso la toxoplasmosi, adesso parliamo di tubercolosi oculare che viene definita come qualsiasi infezione da Mycobacterium tuberculosis a livello dell'occhio. Anche la tubercolosi oculare può essere distinta in primaria o secondaria. La primaria si ha quando c'è un coinvolgimento oculare in assenza di coinvolgimento sistemico, la secondaria quando invece il coinvolgimento oculare è a seguito di una infezione che si propaga da un sito distante, per esempio il polmone. Nel 20% dei casi abbiamo proprio sedi extra polmonari, tra cui proprio l'occhio. Nella maggior parte dei soggetti il sistema immunitario dà una risposta efficace alla tubercolosi, quindi rimane latente, però si può riattivare soprattutto in soggetti che hanno età avanzata, AIDS o fanno farmaci immunosoppressori, quindi anziani, AIDS immunosoppressori. Manifestazioni oculari quali sono? Abbiamo innanzitutto l'uveite, la corioidite, la periflebite e vascolite retinica e l'iridociclite, quindi uveite, corioidite, periflebite e l'iridociclite. L'uveite abbiamo detto è importante, la corioidite, poi c'è la periflebite e vascolite retinica che è spesso bilaterale con ipersensibilità come manifestazione di ipersensibilità al bacillo, può essere lieve o innocua oppure comunque comportante ischemia. L'iridociclite è la presenza di noduli tubercolari a livelli grigi a livello dell'iride, quindi iridociclite. Manifestazioni orbitarie quali sono? Possiamo avere l'osteoperiostite del margine orbitario in età infantile e la tubercolosi delle parti molle orbitarie, che però è rara e soprattutto in età adulta, quindi tubercolosi ossea e delle parti molli. La diagnosi, allora, è difficile da diagnosticare in quanto abbiamo sintomi che sono tutti riferibili ad altre cause. Bisogna supporre la presenza di tubercolosi ogni volta che si diagnostichi un'uveite in un paziente che magari viene dall'Africa o dall'Asia. Poi abbiamo dei segni che possono spingerci a considerare tubercolosi. Queste sono sinecchie posteriori estese, la vasculite rettinica con o senza coroidite, oppure la coroidite tubercolare simil-serpiginosa, quindi o una vasculite senza coroidite o una coroidite simil-serpiginosa, oppure sinecchie posteriori. Chiaramente fa il mantù e valuti l'espettorato. La tubercolosi, come in ogni caso, si cura sempre con rifampicina, etambutolo e isoniazide o anche pirazinamide, quindi isoniazide, rifampicina, pirazinamide e etambutolo. Concludiamo le infezioni oculari parlando della sifilide oculare, che è causata dal treponema pallidum. Può essere congenita, presentandosi durante l'infanzia, con caratteristiche sistemiche tra cui i denti di Atkinson, naso con deformità a sella, sordità, chiaramente cheratite interstiziale ed ectopia del cristallino. Quindi la congenita ha denti di Atkinson, naso a sella, sordità, cheratite interstiziale e appunto a noi interessa l'ectopia lentis, cioè l'ectopia del cristallino. La sifilide acquisita può essere primaria ed avrà un ulcera in dolore nel sito di inoculazione, lo sappiamo. Secondaria sarà dieci settimane dopo con febbre, malessere, rash, persistente per molti anni. La terziaria è manifestazioni solite neurologiche e cardiovascolari, quindi si parla di neurosifilide. Tuttavia a noi quello che interessa sono le manifestazioni oculari, quindi la congiuntivite, l'episclerite e la sclerite, la cheratite interstiziale luetica, che è una manifestazione della sifilide congenita, caratterizzata dall'edema corneale, con vascularizzazione degli stati profondi della cornea, lussazione del cristallino, uveite che può essere unilaterale o bilaterale, che è una delle manifestazioni oculari più frequenti, e l'iris roseole. Poi abbiamo anche la pressione intraoculare elevata, la corioretinite e la vitreite, che sono più frequenti, ma soprattutto dobbiamo ricordarci la retinite a vetro smerigliato, che spesso è associato a vasculite retinica ed è caratteristica della sifilide, quindi retinite a vetro smerigliato, e poi le lesioni placoidi dell'epitelio pigmentato retinico, che sono nella regione maculare per i papillare, quindi lesioni placoidi dell'epitelio pigmentato retinico, paralisi oculari, alterazioni del nervo ottico, che contemplano sempre questo interessamento cerebrale, quindi ripetiamo, congiuntivite, episclerite, esclerite, cheratite interstiziale luetica, che è tipica della sifilide congenita, e c'ha edema corneale con vascularizzazione degli strati profondi della cornea, quindi sclerite, episclerite, congiuntivite, cheratite interstiziale luetica, lussazione del cristallino di cui abbiamo parlato prima, l'uveite, molto frequente ma poco specifica, l'iris roseole, che sono patognomonici ma rari, poi abbiamo la pressione intraoculare elevata, la corioretinite e vitreite, che sono frequenti ma come l'uveite sono a specifiche, molto più specifiche sono la retinite a vetro smerigliato e le lesioni placoidi dell'epitelio pigmentato retinico, seguono alterazioni del nervo ottico, che contemplano sempre un interessamento cerebrale, le complicanze a lungo termine sono glaucoma, cataratta, membrane epirettiniche, glaucoma, cataratta, membrane epirettiniche dopodiché passiamo alla diagnosi che può essere fatta tramite test non treponemici o test treponemici la diagnosi diretta viene fatta con l'iris roseole, abbiamo detto che però è molto raro, con la retinite a vetro smerigliato e con le lesioni placoidi dell'epitelio pigmentato, oppure con la ricerca diretta della treponema mediante microscopia a campo oscuro o con fluigli aspirati, colorazione d'argento o asportazione dei tessuti, quindi visione diretta e microscopia a campo scuro, colorazione a sali d'argento oppure asportazione tessutale, alto indice di sospetto va mantenuto in pazienti che hanno HIV, la terapia è sempre a base di penicillina con alternative terapeutiche che sono le tetracicline e la doxiciclina, quindi penicillina, tetracicline, doxiciclina, possiamo anche dare corticosteroidi sistemici, topici, che sono efficaci nel trattamento di uveite anteriore, quindi diagnosi con i vari test, con le lesioni caratteristiche e con la ricerca diretta del treponema, terapia con penicilline, tetracicline, doxiciclina, corticosteroidi sistemici.